Sì! 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 Psst! Mil! Sono qui! E vattene! Sì! Finalmente sei riuscita a venire! Dopo avertelo chiesto mille volte! Apertura futura la 1001 era la volta buona per vedere questa discarica! Ma se non ci sei mai stata qui! Andiamo! Ho tutto il giorno pianificato per noi! Wow! Tutto il giorno! E non devi andare con gli altri là sopra per ammazzare qualche umano! No! Ma il lavoro è lento ultimamente perciò i ragazzi hanno detto che faranno loro! Cavolo! Un'occasione speciale! Dove andiamo? Noi possiamo iniziare dalla spa e poi dallo shopping! Senza offesa Sal! Ma puzzi di culo di maiale! Non è vero principessina che si bagna nel latte! Oh! No! Aspetta! No no! Già! Hai ragione! Quello è decisamente culo di maiale! Coraggio! Facciamo a pezzi la città! Via! Cazzo! Vedi? Il miglior giorno di sempre! Te l'avevo detto che ti saresti divertita! Sì sì! Suppongo che non sia così male! Pfff! Non così male! È fortissimo! Aha! E un giorno non è abbastanza! Ci sono così tante cose da vedere! Sì! Cioè! Con tutte le cose che ci sono qui non mi sorprende che non torni mai a casa! Cazzo! L'ho detto! Cosa? Sai no? I giorni dell'ira! Quel buco noioso polveroso pieno di nulla! Lì non ci sono sale giochi o club! Quindi perché tornarci giusto? Sono tornata all'ultimo festival del raccolto! Sì certo! Ma per il tuo bel lavoro! Sei arrivata con quell'uccello dallo sangue blu! Quel cazzone del tuo capo! E il tuo maritino zuccheroso! E... Non lo so! Non riesco a vedere come io posso centrare nella tua nuova vita! Sal! Mi dispiace! Il lavoro è diventato difficile e mi tieni a... E pensi che non sia stato difficile per me a casa da quando non ci sei! Praticamente ho gestito tutto io da sola! Mi ho piaciuto! Onestamente mille… Oggi è stato grande! Anzi grandioso! Mi hai ricordato a quando eravamo sempre insieme prima che te ne andassi! E odio pensare che dovrà passare altro tempo prima di rivederti… Già! L'odio anch'io Ci sarà sempre posto nella mia vita per mia sorella Sally May Mi dispiace non essere tornata più spesso Rimedierò Ma sai, i ragazzi sono grandi ormai Ma e Pa hanno sempre delle mani in più a Ranch Puoi venire più spesso anche tu Mi piacerebbe molto A presto 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 A presto